Due Re Magi, lo vedete, sono già arrivati, il terzo è ancora in viaggio, ma c'è tempo. Il 5 di gennaio tornano i Re Magi a Stresa con gli antichi mestieri, ma è un anniversario importante perché la manifestazione compie 100 anni con diverse novità. Sì, certo, tornano a Vedasco, frazione di Stresa. Noi abbiamo una pala d'altare del 1593 che rievoca appunto l'adorazione dei Magi e da fine Ottocento questa tradizione ha preso piede nella nostra frazione. Ripresa e abbandonata per alcuni periodi durante questo secolo e mezzo, arriva la centesima edizione arricchita con la nostra natività, i Re Magi, i Re Rode e 40 punti all'interno del paese, locande, antichi mestieri, botteghe artigiane. Ci sarà anche un concerto di campane. Sì, ci sarà un concerto di campane che è una novità, credo, nella zona. Verrà fatto davanti al Sacrato in attesa dell'arrivo della natività e poi riproposto al piazzale. Per il centenario anche un bel libro creato da Andrea Lazzarini con tante foto anche storiche dei Magi di Vedasco, ma nella preparazione del volume ha incontrato qualche curiosità che ha voglia di raccontarci. Allora, diciamo che sono trovato parecchie fotografie d'epoca da mettere a posto a livello editoriale che hanno restituito soprattutto anche l'immagine del borgo di Vedasco in modo che si giudisse a capire perché praticamente è nata questa cosa, soprattutto questa devozione per i Re Magi. Lanciata anche la proposta di una sorta di gemellaggio con capofila stresa e con le altre località del mondo che hanno importanti presepi viventi. Altre novità per questo centenario, la presenza del falconiere e l'annullo filatelico dedicato. Da mezzogiorno specialità enogastronomiche alla Locanda del Cervo. Arriverà la Befana con calze per i piccoli, sarà accompagnata dal folletto russo. Una navetta farà la spola dalle 11 dal piazzale dell'imbarcadero di Stresa. Lunedì alle 10 la Santa Messa. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 6 gennaio.